L'Enea World è nel nostro piano strategico, quindi è qualcosa che fa parte della nostra strategia. E l'Enea World copre non solo le aree di competenza aerei, ma è molto allargata, è ricerca di base, perché proprio dalla ricerca di base molte volte si riescono a trovare delle soluzioni inaspettate, importanti e dei passi avanti notevoli nelle attività tradizionali. Quindi si parte proprio dal chiedersi il perché delle cose ed è una ricerca veramente di base.